Grazie a tutti quanti voi che ci state davvero inondando di affetto stamattina attraverso le foto dei vostri amici a quattro zampe. Ma ritorniamo al tema di oggi, quello del turismo, che nel primo intervento ha visto anche dei legami importanti tra le nostre esigenze, la nostra esigenza di relax, di riposo e l'affetto che dobbiamo portare i nostri amici a quattro zampe anche in vacanza. Parliamo quindi di ospitalità e lo facciamo attraverso un evento di straordinaria importanza giunto alla nona edizione, il Festival dell'ospitalità che si svolge a Nicotera, provincia di Vibo, Valencia, con noi. Per andare oltre i confini del turismo, come dice il tema di quest'anno, fuori rotta, il direttore del Festival, Francesco Biacca. Buongiorno Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità, ben trovato. Vedo che hai anche già la maglietta del Festival addosso. Ormai manca pochissimo. Ma la toglierò più da qui al 20 settembre. Ormai manca poco per la nuova edizione del Festival dell'ospitalità. Ecco, intanto raccontaci come è nato e perché. È nato diciamo dieci anni fa perché noi come professionisti partecipiamo spesso e volentieri alle fiere di settore e abbiamo individuato un'opportunità, quella di immaginare un evento lento che possa consentire agli operatori e professionisti e anche ai cittadini, quindi alle comunità, di confrontarsi sulle tematiche che ruotano intorno all'industria del turismo. Abbiamo scelto di farlo al sud e in Calabria, volutamente, perché vogliamo dare la possibilità agli operatori dei nostri territori di potersi confrontare con altri professionisti senza dover per forza di cose andare a partecipare alle fiere del settore che spesso e volentieri sono concentrate al centro nord e che sono sicuramente dei momenti utili di accrescimento e arricchimento ma che secondo noi non c'entrano perfettamente quelle che sono poi le esigenze delle comunità, non solo del sud ma di tutte quelle aree diciamo marginali o interne che nell'ospitalità vedono l'opportunità di potersi valorizzare correttamente. Benissimo Francesco, allora adesso facci entrare un po' più da vicino nella nuova edizione, in edizione 2024 del Festival dell'Ospitalità raccontaci un po' quali saranno i momenti salienti di quest'anno. Intanto la particolarità del Festival dell'Ospitalità è che è un evento organizzato insieme alla comunità di Nicotera quindi oltre una serie di incontri con operatori e professionisti che ci permetteranno di affrontare diciamo le tematiche delle distorsioni che l'industria del turismo inevitabilmente porta sui territori se non ci sono delle progettualità pensate e centrate sulle comunità ci saranno poi una serie di esperienze e attività culturali diffuse su tutto il comune di Nicotera immaginate proprio per cercare di far entrare in contatto i cittadini e gli operatori diciamo con le tradizioni e l'identità del nostro territorio quindi scandaglieremo un po' il fenomeno dell'over tourism visto che è una parola un po' sulla bocca di tutti oramai però cercando di proporre delle soluzioni e lo faremo su diverse dimensioni il contatto con la dimensione ambiente quindi con la natura e il confronto tra quello che avviene nelle città piuttosto che nelle aree rurali parleremo di intelligenza artificiale e soprattutto cercheremo di proporre e raccontare tutti quei progetti e quelle soluzioni a questo problema che è un po' in giro per l'Europa stanno portando avanti una visione nuova dove il turismo non è visto come una risorsa solo ed esclusivamente economica ma quanto piuttosto un modo appunto per valorizzare come dicevo prima e anche proteggere un po' le nostre comunità e iniziare a raccontare i nostri territori da un punto di vista diverso e questo è in perfetta sintonia con quanto dicevamo con l'ospite che ti ha preceduto il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano è importante oggi e come dicevi appunto anche tu valorizzare l'essenza dei nostri territori è una sfida dal tuo punto di vista che stiamo ci stiamo giocando bene stiamo vincendo oppure c'è ancora molto da fare questa è una domanda 6 milioni di dollari diciamo che in media ci sono delle progettualità che stanno andando nella giusta direzione è chiaro che diciamo il mondo dell'informazione quindi poi i social e i mainstream spesso e volentieri ci raccontano un po' più le distorsioni delle cose positive che succedono esistono una costellazione di progettualità in giro per l'Italia da nord a sud che mettono al centro le comunità nei loro progetti di narrazione e valorizzazione dei territori dove il turismo diventa una delle economie fondamentali di quel territorio poi la domanda che bisognerebbe che tutte le comunità si facciano è se veramente vogliono vivere di turismo perché spesso è più un'esigenza dettata dalle mode del momento che è una reale esigenza dei territori non tutti i luoghi per quanto ci riguarda possono o debbono come dire fondare la propria economia principale sul turismo però quei territori che scelgono di farlo è necessario che mettano al centro le esigenze delle comunità ti faccio e vi faccio un esempio pratico spesso e volentieri in quei luoghi in quelle destinazioni dove il turismo è l'economia principale tutto viene pensato in funzione del turismo del turista quindi ad esempio la concentrazione di eventi anche culturali è tutta nella stagione estiva ovviamente parlo di quelle destinazioni del prodotto mare quindi luglio-agosto c'è una proliferazione enorme di eventi e poi tutto il resto dell'anno te li devi andare un po' a cercare allora dovremmo un attimo rigirare il paradigma invertirlo cioè immaginare di organizzare incontri momenti di confronto eventi pensati per i residenti che siano temporanei o meno di quella comunità e poi far fruire ai viaggiatori che scelgono la nostra destinazione diciamo il quotidiano quindi come ad esempio io vivo la quotidianità a Nicotera in questo piccolo paese sulla costa degli dei in Calabria davvero davvero prezioso questo confronto con te Francesco stamattina perché appunto ci restituisci come già stavamo apprendendo anche nei collegamenti precedenti quanto sia importante avere consapevolezza di questi temi per poter vivere al meglio i nostri territori e le potenzialità che si hanno bene in conclusione con te voglio ritornare sulla home page del sito ufficiale del festival dell'ospitalità ormai imminente che avrà luogo dal 20 al 22 settembre a Nicotera ti ringrazio Francesco per essere stato con noi e l'invito che facciamo a tutti i nostri telespettatori approfondire la conoscenza di questo straordinario evento e se è possibile parteciparvi ci saranno anche eventi in diretta streaming magari per chi è più lontano e non potrà raggiungervi no diretta streaming forse faremo qualche passaggio però il senso che dicevo all'inizio è di potersi incontrare fisicamente e passare del tempo assieme valorizzandolo nel giusto modo quindi per noi è importante mettere al centro le relazioni umane io vi aspetto a Nicotera dal 20 al 22 settembre ti ringrazio ancora per lo spazio che ci hai dedicato speriamo di rincontrarci presto per poterci abbracciare fisicamente me lo auguro anch'io bene cari amiche cari amici di Padre Pio TV quindi prepariamo le valigie e mettiamoci in viaggio verso Nicotera grazie Francesco davvero buon lavoro e a prestissimo grazie linea alla regia a tra pochissimo